Iniziamo, buongiorno a tutti, sono Camilo Botolo, perché non mi conosce, penso di conoscere quasi tutti ormai, direttore commerciale del gruppo SAVE, ovviamente anche di Roma. Questa conferenza stampa ovviamente per annunciare quello che sono le unità che porta Volotea, magari anche per fare un sunto di quello che è stata la stagione estiva che stiamo concludendo questo mese, una stagione estiva che, se posso dire, anzi è un anno che è stato eccezionale per il capitolo. Stiamo crescendo dell'11% da inizio anno, le previsioni per il mese di ottobre che è stato un ottobre assai strano in confronto agli anni precedenti, perché tutto il mercato ha un po' rallentato, però sempre un 8% di crescita, è quello che sono le aspettive per il mese di ottobre. Con novembre e dicembre, cioè l'inizio della stagione invernale, come voi sapete avviene a fine ottobre, le previsioni di capacità in vendita sono di un aumento del 20%, per cui tutto ci fa pensare che anche la crescita dei passeggeri seguì a un trend adotta cifra. Detto ciò, le aspettative per noi sono di chiudere attorno a 3.450.000 in un giugno di lì, che ovviamente gran parte di questa crescita è stata portata avanti inizio grazie a Volotea, per l'altro non solo a Valeria, che gira come una crosta, purtroppo in giro per l'Italia, però anche a Barbara, per chi non la conosce, che è il caposcato di Venezia che vive ora e non ha un compito facile nei mesi estivi. Detto ciò, Valeria, prima, parlando con un po' di voi, fa menzione soltanto delle nuove destinazioni, ma vale la pena anche guardare a quello che è stato il passaggio dal 7.1.7, la macchina storica di Volotea, dal 3.19. Tutto nella presentazione. Allora, spazio, con questo, ragazzi, poi magari avremo le domande dopo, passerei la parola direttamente a Valeria e poi torniamo se vuole un argomento.